Cari amici, il tempo e lo spazio, come esistono nella nostra realtà, sono ottenuti da un calcolo. Fate finta che dobbiamo avere una pellicola, la quale abbia tutti i fotogrammi quadrati, dati da 10x10. Come facciamo ad ottenere questa pellicola? Eseguiamo un calcolo. 10 al cubo, ossia mille, diviso per 99, determina in lunghezza un 10,10101010 infinito. Abbiamo realizzato il tempo infinito decimale in cui nel lato della lunghezza abbiamo sempre 10, 10,101010. Voi dite ma sono ridotti a decimi. Lo sono, se considerate che sia stata divisa la quantità per 10. Ma se essa non è divisa risulta eternamente 10, solo che ogni volta è presente nel tempo decimo. In ogni tempo c'è un 10 diviso nel decimo e quindi c'è un valore unitario. Sembra una prospettiva decimale perché voi ignorate che a ogni passaggio di tempo mentre si divide per 10 si moltiplica anche per 10 perché l'area passa da un 10 solo in lunghezza a un 10x10100 in ampiezza. Per cui quando pensate che l'ampiezza è 100 e si divide poi per 10 ecco avete il 10 che si è ripetuto essendo il decimo di 100. Ecco abbiamo ottenuto la pellicola 10,10 eterno. Ora dobbiamo impressionare sulla pellicola il movimento. Il creatore ha fatto ricorso allo stesso mille posto in principio all'ideale di un cubo avente il lato 10. E ha costruito tutto con il sistema decimale. Come ha fatto a determinare la dinamica infinita? Ma ha fatto ricorso ai numeri primi. I numeri primi sono il nocciolo duro dei numeri naturali. Poiché accettano di essere divisi solo per se stessi e per uno, sono numeri che o valgono nel loro insieme, ossia come uno, oppure valgono con il loro preciso valore che hanno. essendo, se il numero primo è il tre per esempio, tre terzi, uno, o cinque quinti, o tredici tredicesimi. Grazie all'attività reale dei numeri primi all'interno degli altri numeri, quel calcolo matematico che consente di ridurre ai minimi termini il minimo comune multiplo o il massimo comune divisore, che scinde i vari numeri e li fissa per come sono composti esclusivamente da numeri primi. e avete che ognuno di questi numeri primi è presente una o più volte. Ecco, quando un numero primo è presente una sola volta, entra in scena una sola volta. E come si fa per farli entrare in scena tutti quanti una sola volta? Si prende l'unità del tempo che è 0,1 e quindi è il tempo millesimo diviso per il decimillesimo. La realtà intera è 10.000. Il quantitativo unitario abbiamo posto 1000. Bene, 1000 diviso per 10.000 è uguale a 0,1 e abbiamo il tempo della realtà. 0,1 è il tempo unitario. E lo dividiamo per 0,1 e mettiamo la sequenza dei numeri primi in ordine uno dopo l'altro, in modo che l'unità in un colpo solo sarà divisa per ciascuno dei numeri primi che compaiono e entrano in scena progressivamente uno dopo l'altro. Se sono ordinali, come primo, secondo o terzo, entrano in scena come primo, secondo o terzo, quindi quando noi facciamo 0,1 e lo dividiamo per 0,2, 3, 5, 7, 11, 13 e così via fino al sedicesimo, che è quello che carica la realtà data da 4x4, quella dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo ha una dimensione di tempo, 3 di spazio, in totale sono 4. Quando il 4 si carica a forma di area e diventa 4x4 diventa 16, è la carica della realtà. E questa carica di realtà si realizza attraverso i promotori della realtà, che sono i 16 numeri primi. ecco, quando noi facciamo una cosa di questo tipo qui, abbiamo la creazione della dinamica a tutte le dimensioni, perché si parte da un principio in cui ci sono per la prima volta dieci cifre come risultato, poi le dieci cifre diventano 20, poi diventano 30, poi 40, poi 50 e così via, diventando alla fine infinite. E questo sistema qui ha una certa dimensione infinitesima, è il sistema che fissa tutti i movimenti, tutti, quelle della realtà. E nei movimenti di questa realtà che cosa è compreso realmente? La nascita tua, la mia, la nascita di ogni cosa e ogni evento, perché con questo secondo sistema si va a impressionare quella pellicola che avevamo creato prima facendo il calcolo di 1000 diviso 99. Ecco, il primo 1000 diviso 99 genera la pellicola infinita, il secondo calcolo introduce nei tempi giusti i singoli valori e essi entrano in atto nei tempi giusti e a quella dimensione lì si presentano realmente. E visto che noi uomini ci presentiamo realmente dobbiamo arrivare a credere che ci presentiamo realmente anche noi. in che modo? E nel modo dato dai numeri. E quando noi abbiamo dei nomi che equivalgono a numeri, se li consideriamo sotto il profilo numerico, ossia se trasformiamo 1, 2, 3 fino a 21 in italiano in A, B, C, D e allora abbiamo che un nome è l'espressione alfabetica del numero equivalente. è la cabala. La cabala in italiano è perfetta perché l'italiano ha le 21 lettere di 7 più 7 più 7 e 7 è lo spostamento che ha il 3 quando esiste nel ciclo 10, occupa 3, 7 è uno spazio libero, quindi tutto lo spazio libero del 3 nel 10 è il 7. e quando noi mettiamo in atto 7 più 7 più 7 calcoliamo lo spazio libero che ha 3 per 4 ossia 12 dentro in 30 e la differenza è quella lì, 21. ora sulla base di questo oggi io ho fatto uno studio particolareggiato sul sistema usato dal Padre Eterno per fissare su questa pellicola, su questo film dell'esistenza tutte le nostre azioni e ne è venuto fuori qualcosa di interessante e ancora una volta che coinvolge proprio l'entrata in scena di chi gli parla, di suo fratello, di suo padre e dovete soltanto vedere questo strano caso e studiarvelo con attenzione. Buona lettura. analisi della dinamica che impressiona il film dell'universo. Quando si fa quel calcolo che vi ho detto di 0,1 diviso per 0,235 e così via fino ai primi 16 numeri primi il che determina 28 cifre come divisore il risultato che abbiamo è questo che vediamo sotto il titolo. è 0,42, 42, 48, 100, 9 e lì c'è un pallino perché con quel pallino lì io ho individuato 10 cifre. poi c'è 30, 230, 5, 4, 8, 7, 5, un altro pallino, le seconde 10 cifre, poi 60 eccetera eccetera e così via c'è disaggregato separati tra di loro i valori interi, ossia quelli che finiscono per 0 e vediamo che in principio c'è una quantità che finisce con doppio 0 e indica che lì il 100 che è il lato della realtà. la realtà 10 elevato a 4 è 10.000, la radice quadrata di 10.000 è 100, 100 è il lato di questa area, 100 e quindi vedete che quel numero lì esprime esprime le quantità riferite proprio ai lati 100 della realtà, il primo è dato da 42, 42, 481, questi sono i quantitativi 100. per determinare un altro quantitativi 100 bisogna considerare la riga che vedete in mezzo in eretto con la separazione del blu. vedete in tutto occorrono 501 cifre per arrivare al terzo gruppo espresso in centinaia, perché c'è un primo gruppo che termina con quel doppio 0. per il secondo gruppo bisogna arrivare in quella espressione bianco e nero, vedete, al valore 700 seguito da quel blu lì, e poi infine l'ultimo, quel 300 seguito dai valori in blu. ma leggiamo quello che ho scritto. queste quantità sono date dal tempo unitario 0,1 che è diviso per la sequenza decimale dei 16 primi numeri primi. essa determina tutta la dinamica della realtà dell'universo, fissandola sulla sequenza data da 10 elevato al cubo diviso 99, che realizza un ciclo 10 come infiniti fotogrammi 10x10 non ancora impressionati di un film infinito. essendo questo calcolo il frutto di una divisione fatta in base a 16 numeri primi costituiti da 10 più 6, in cui 6 è il complemento al 10 dato dai primi quattro numeri, il 2, il 3, il 5, il 7, aventi una sola cifra. e quindi quando si aggiunge anche quelle 6 quantità che in sostanza sono state apparentemente emesse, sono 16 il valore di carica esistenze anche nel primo gruppo di 16. Bene, il risultato è conforme a una divisione in 10 cifre alla volta, che sopra ho evidenziato col segno del grado, separandole, ma anche dalle 8 più 1 che con 0,424248100 completano il primo ciclo terminante con 100 e con le 30 aggiunte completano le 39, un numero dato da 13 per 3, che è quello del secondo ciclo intero terminante con 10. Il terzo, a valenza di spazio terminante con 10, è dato giusto dalle 13 cifre evidenzianti il ciclo 10 mosso di 3, ossia dello spazio intero, e porta al 52, che è uguale a 4 volte 13. Il quarto ciclo che termina con 10 aggiunge 44 cifre alle 52 e le porta alle 96 che sono date da 13 per 7 più 5 tredicesimi, che sono, come il 100 meno 4, in realtà, a 6 dimensioni quelle delle prime 16. Il quinto ciclo terminante con 10 aggiunge 7 per 7, aggiunge 49 cifre come un'area di dinamica e porta al 145 uguale al decimo numero primo 29, che esiste nel tempo dei 100 mezzi quello dimezzato nel ciclo 10 dell'universo che con 10 va e viene, con 5 solo va. Il sesto, che è fondamentale perché termina con 10 e aggiunge esattamente 281 cifre, è il moto 100 nel 381 che è la somma dei primi 16 numeri primi. È significativo perché quando noi dividiamo per questi numeri primi abbiamo un valore sintetico che è una divisione attraverso tutti quanti messi nella loro somma. E poiché la somma dei primi 16 numeri primi è 381, 381 diventa un valore determinante. Determinato a che livello? A livello proprio di quel 10 elevato a meno 381 che lo possiamo trovare proprio nel numero d'ordine che abbiamo ottenuto in questi 501 valori decimali che se vogliamo la dimensione dell'ultimo e quella è 10 elevato a meno 501, a indicare che è proprio il numero 501 come valore decimale. Ecco, il numero 301, il numero 138 lo possiamo trovare come il numero 138, 138esimo, 381esimo scusatemi, come numero decimale. E allora lo vediamo espresso alla terza riga di quelle in mezzo, quella che le vedete tutte, vedete 381 cifre decimali sono quelle lì che vanno un po' oltre il secondo gruppo che termina con 700 perché sconfina con un 188 nel ciclo successivo e lì c'è il 381, dunque il, dicevo, il sesto che termina con 10 è importante perché è il più esteso, vedete, è fatto di 281 cifre è tutto il movimento di 100, che è il lato della realtà, dentro il 381 e si esprime proprio come tutto il movimento del sesto porta il totale a 426 che è un valore assolutamente significativo perché la realtà 400 indica 100 più 300, è lo spazio 300 più il tempo 100, è la dimensione 4 riferita ai lati centro della realtà ma si somma a 26 e 26 che è il valore che in cabala ugualia il nome Dio, è proprio un movimento che arriva dappertutto perché nel 26 c'è il piano che ha i due lati che sono 10 e 10 e dunque è il lato unitario 10 e 10 in lunghezza 20 indica proprio la lunghezza totale del piano quando il lato è 10 e 6 è il flusso che va da tutte le parti, davanti e dietro, destra e sinistra, sopra e sotto per cui 26 va dappertutto e quando si aggiunge al 400 ci va proprio con tutta la realtà del lato 100 che esiste come un quadrato che ha un perimetro 400 perché il suo lato è 100 quindi la carica è 26, quella di Dio, il perimetro che la descrive è 400, 426 questa dimensione 426 è il numero decimale 426 che espresso in matematica, essendo decimale, equivale a 10 elevato a meno 426 e colloca la sua precisa posizione all'interno di questo quantitativo e lo abbiamo evidenziato, l'ho evidenziato all'interno di tutto questo come l'altro come l'ultimo che ha quel rosso con quei 5 pallini che ci sono dentro e lì termina il 426 poi si completa proprio con tutto quanto lo spazio tutto lo spazio quando il lato è 100 è dato dai tre quarti del lato 100, è dato da 75 e i valori che si aggiungono fino al doppio zero sono 75 e si arriva con questo esattamente a 501 che è proprio la presenza 1 del 500 che nell'universo che va e viene come mille rappresenta solo l'avanzamento 500 nella sua presenza 1 abbiamo visto come si è arrivati in modo matematico esattamente a tutta la presenza 1 del 500 che è riferita al lato 100 proprio tutto quanto l'universo si nota, sto leggendo, l'esistenza di un solo ciclo che comincia con lo 010 uno solo c'è, il quale nel suo 1 è la trentottesima cifra decimale e da questo deriva quel valore fenomenale che ha il 38 che è il flusso del piano a lati 1 e 1 nella realtà 4 espressa con il ciclo 10, ossia in 40 è quel 38 di flusso che nella sua area, ossia in 38 per 38 uguale 1444 porta a tutti i minuti primi interni esistenti del giorno riferito non al sole ma alle stelle fisse dopo le prime unitarie 39 cifre segue il 3.47349 eccetera eccetera che pensate un po' è il pi greco uguale 3,1415 eccetera lo conoscete cos'è incrementato di 0,331904162111 che è una quantità uguale al valore decimale della carica elettrica in coulomb che è 0,1602176634 questa è la carica elettrica nel tempo decimale che si moltiplica esattamente per 2,0715 quando il dettaglio va fino alle quattro cifre decimali di 10 elevato a meno 4 che è il dettaglio dello spazio-tempo quindi quando noi vogliamo dettagliare nell'unità dello spazio-tempo dobbiamo limitarci a leggere le prime quattro cifre decimali e fermare lì la nostra attenzione perché lì c'è il valore unitario alla dimensione unitaria dello spazio-tempo e quindi quando la carica dei coulomb si moltiplica per 2,0715 va, indica con il 2 il complesso perché lo spazio-tempo è complesso va da meno 1 a più 1 è complesso insomma tutta la nostra realtà è complessa è secondo una relatività generale che quella che esiste tra un più 1 e un meno 1 e quindi va considerata la carica non solo nel positivo in cui noi consideriamo l'universo ma nel 2 perché c'è l'universo che va in positivo e c'è la carica che va in negativo quindi l'intero va espresso esattamente in 2 ma poi c'è un tempo decimale che è esattamente 715 diviso 10.000 e in 715 c'è 15 che è lo spazio-tempo unitario spazio in 10 suo tempo mezzo in 5 quindi 15 è lo spazio-tempo unitario sono i tre tempi dell'universo quando è 5 quello reale 5 per 3 fa 15 15 è tutto lo spazio-tempo unitario 15 si muove per quanto è dato dal vincolo set sferico con queste quantità che sono 100 ossia quanto il lato della realtà e sono 7 il numero quindi sono 700 il che è dato proprio dalla realtà 10 elevato a 4 la cui radice quadrata fa il lato 100 i 7 parametri che rendono sferico tutto sono i 6 dato dal vincolo che è quello ortogonale al quale si aggiunge quello del raggio qualunque 1 aggiunto ai 6 e diventano i 7 i 7 il numero puro è tutto il movimento che esiste nel 3 ossia la presenza dello spazio nel ciclo 10 della presenza e si muove totalmente di 7 quindi vedete bene che questo quantitativo di 715 riferiti alla realtà 10.000 sono proprio lo spazio-tempo 15 in tutto il movimento 700 del lato della realtà e questo modello quando si esprime poi nel valore unitario 2 si esprime nel vai e vieni ossia nel valore complessivo quando partiamo dunque dalla carica dei Coulomb e li moltiplichiamo esattamente per 2,0715 abbiamo il valore 0,33190 che si unisce a più greco 3,14 e diventa esattamente quello che viene dopo le prime 39 cifre comincia una funzione di giro quella data da pi greco dopo le prime unitarie 39 abbiamo visto quando si completa il quarto ciclo 10 della realtà si raggiungono le 96 cifre che sono tutto il moto della realtà a 4 dimensioni nel 100 100 meno 4 significa 10 elevato a 100 diviso per 10 elevato a 4 uguale 10 elevato a 96 per cui quella sottrazione di 100 meno 4 è proprio la divisione tra 10 elevato a 100 è la carica del faraday come valore puro trovata in fisica non proprio così perché la fisica ha eseguito dei calcoli non interi come quelli che stiamo facendo qui ma unitari che difettano sempre di un 1 lanciato nel tempo e di conseguenza portano sempre valori rotti perché il valore intero è presente noi abbiamo una presenza che è sempre lanciata nel tempo di conseguenza abbiamo numeri sempre incasinati che non sono mai interi proprio perché l'intero non è presente tutto quanto adesso ma noi lo abbiamo lanciato nel tempo di una infinita serie dei decimi successivi ecco abbiamo visto cosa succede quando si completa il quarto ciclo ecco questo è il 4 7 8 6 0 delle quattro decine successive e intere nel ciclo 10 e in 4 per 10 elevato a 4 è l'intera realtà che nel flusso 786 è il moto intero dato da 7 per 7 nella realtà complessiva in 400 più 400 il quinto ciclo con 145 cifre decimali porta al lato 100 della realtà nel tempo 45 che è quello complessivo dato da un ottavo dell'angolo giro di 360 gradi quindi abbiamo il lato più 45 gradi di rotazione il sesto ciclo che porta a 426 completa come somma questa sezione aurea data dalla serie 18 28 38 48 che vale 66 nella somma dei medi e in quella degli estremi e che origina 18 più 48 che sono gli estremi poi gli si aggiunge la loro somma come il 66 poi 48 si somma 66 determina 114 poi 66 si somma 114 e arriva a 180 che 10 volte esatte il primo 18 e con ciò ha il numero 426 come somma di tutti questi valori ebbene c'è un riferimento biblico in tutto ciò perché 426 sono i primi o ultimi nomi in Bibbia tra i nomi dei primi 10 uomini da Adamo fino a Noè in ciò Adamo è uguale a 30 ed è il primo ed è 30 anche l'ultimo quindi il 426 è il numero dei primi 9 o degli ultimi 9 e meno 4 volte 114 ossia 456 determina 30 e 456 sono i nomi dei primi 10 uomini in Bibbia come chiamati da Noè poi Set poi Enos eccetera fino a Noè qui vedete i loro valori cabalistici gli indici darsi dalle dimensioni 381 e 426 che sono quelli delle cifre come 10 elevato a meno 381 e 10 elevato a meno 426 sono i due primi soggetti del tempo al punto che quando l'indice 426 si divide per l'indice 381 determina il lato esatto della realtà dello spazio tempo la cui area è 1,25 infatti per fare l'area dello spazio tempo lo spazio unitario è 1 e la sua area 1 elevato a 2 è 1 il tempo è 0,5 e 0,5 al quadrato è 0,25 quindi lo spazio quindi lo spazio all'area 1 il tempo all'area 0,25 lo spazio tempo all'area complessiva di 1,25 la radice quadrata di questa area determina la lunghezza del lato dell'area ora quando noi prendiamo il rapporto tra 426 e 381 e lo sappiamo sono indici eh perché sono 10 elevato a meno 426 diviso per 10 elevato a meno 381 il valore che ne otteniamo è 1,118,1,1,0,2,3,6,2,2,0 abbiamo una quantità espressa fino ai centesimi della dimensione atomica data da 10 elevato a meno 10 quando prendiamo il lato della realtà ottenuta dalla radice quadrata di 1,25 abbiamo che 1,118,033 eccetera eccetera e vediamo che avendo nella prova le prime quattro cifre che determinano la presenza unitaria non hanno alcuna differenza per cui la divisione tra i due indici determina esattamente tutto lo spazio tempo unitario che cosa si aggiunge di differenza? il 76,24,74,70 ora noi sappiamo che esiste il valore di carica della realtà quindi prendiamo questo 76,24,74,70 di differenza e lo dividiamo per il valore di carica della realtà quella proprio data dal Coulomb quella data da 1,602,1766,34 il risultato di questa differenza diviso per la carica elettrica è uguale a 4,7589 nelle prime quattro cifre della realtà decimale e che cosa indica? indica il 4, il valore intero che bisogna considerare la carica in tutte e quattro le dimensioni della realtà e nel 75 riferito a 100 perché sono 75 centesimi che cosa è 75 su 100? è tutto lo spazio dato dai tre quarti di 100 quindi è la realtà 4 in tutto lo spazio 75 e in quell'89 che cos'è 89 riferito a 100? è 100 meno 11 significa che c'è la quantità di 66 sesti ossia 11 che esiste e si muove interamente come 11 nel 100 muovendosi per 89 quindi cosa indica quel 4,7589 che va moltiplicato per la carica? indica proprio il quantitativo preciso e perfetto riferito ai Coulomb che portano alla differenza abbiamo visto che c'è tra il valore esatto di 426 diviso 381 insomma l'unica differenza deriva dalla carica della realtà perché il 426 diviso per 381 si è caricato della realtà moltiplicando il valore unitario della carica 16 rotti per 4,7589 il rapporto tra le rispettive decine che hanno quegli indici lì perché abbiamo visto no? quegli indici portano un valore di una decina ebbene alla dimensione di 10 elevato a meno 426 c'è la decina espressa da 10 cifre data da 344997310 il valore invece della decina che esiste alla dimensione 381 è 7337700188 dividendo le loro decine otteniamo 0,4701 e che cosa indica? indica che fino alle quattro dimensioni dello spazio-tempo mostra il movimento 1 decimillesimo un decimillesimo di quel 0,5299 di 1 meno 0,5299 uguale al moto di 10 elevato a meno 4 in 53 centesimi ove 53 è il sedicesimo numero primo quello che dava la carica 16 al 15 che era il valore unitario dello spazio-tempo ma questo 53 va riferito alla lunghezza 100 del lato della realtà per cui come vedete anche facendo ricorso alle ultime 10 cifre alla dimensione 381 e alla dimensione 426 noi abbiamo l'espressione di tutta una quantità di moto perché anche lo 0,47 cos'è? il moto di 3 nel 50 e 3 nel 50 47 su 100 indica proprio che nel tempo mezzo dell'universo sia nel 50 esiste un 3 che si muove di 47 ed esiste come 1 decimillesimo ossia come unitario alla dimensione intera e unitaria dello spazio-tempo questo è il significato di quelle volte 0,4701 ecco abbiamo visto come stanno le cose ma io vi ho detto che tutto questo serve a portare in atto la fotografia il film di tutto ciò che appare in questo nostro film in cui ci sono uomini che nascono ci sono nomi assunti dalle persone che nascono e tutto è rimandato ai numeri attraverso il lavoro che compiono questi numeri ecco un caso particolarissimo ebbene è accaduto in realtà questo fatto incontestabile nei suoi numeri e vediamolo il 1938 01 25 ossia il 25 gennaio del 1938 è nato un primo soggetto che vale 381 cabalisticamente nel suo nome di Romano Antonio Anna Paolo Torquato Modeo 1119 giorni dopo ossia il 1941 0217 e vedete che quello 0217 ha già un valore della carica nei coulomb sono 16,0217 bene nel 1941 0217 gli è nato un fratello che cabalisticamente vale 426 nel suo nome Benito Vittorio Anna Giovanna Giovanni Vincenzo Modeo il Benito non ha preso il giallo vabbè è giallo anche il primo nome Benito il loro cognome Amodeo uguale 47 li ha legati nel tempo del 0,4701 vedete indicante proprio un Amodeo 47 venuto nel tempo in ciascuno e questo è ottenuto dalla divisione delle 10 cifre alle rispettive dimensioni che davano 0,4701 c'è la realtà 1 decimillesima di 47 Amodeo ed è condivisa dai due che dividendosi tra di loro hanno determinato quella relazione i giorni 1119 sono la somma delle quantità unitarie in 1118 su 1 e che cosa sono questi valori qui? e sono quelli che abbiamo visto sopra nella prima e seconda riga del testo vedete che c'è 1,118 uguale a un altro 1,118 ebbene la distanza tra l'uno e l'altro dei due fratelli è di 1119 giorni e se si toccano di mezzo gli estremi è proprio 1118 il valore è collocato in mezzo ai due estremi quindi la data del 410217 riferita al valore unitario di carica 16,02176634 coulomb somma al valore di carica l'unità 15 che è quella intera dello spazio-tempo e 16 più 15 fa 41 ho sbaglio? no fa 31 c'è un errore qui non somma 15, somma 25 è il 25 è l'unità del tempo praticamente somma il giorno 25 della nascita del padre quando vedrete il testo tutto questo che vi sto dicendo io non ci sarà più perché avrò corretto il 15 e il 25 così 16,0217 porta con più 25 a 0 a 41,2176634 intero ma solo se questo secondo genito asseconda un primo genito il cui primo nome è il 66 uguale romano e il suo flusso un mezzo che gli si aggiunge dopo come 33 che è presente in 1 e sia pertanto il tra parentesi 6634 dettagliato dopo la data del 41,0217 del secondo genito vedete mettendoci il dettaglio del flusso ci aggiungiamo al secondo proprio gli estremi del primo benito benito che il suo primo nome vale 59 diciamo il primo quando è un minuto primo vale 60 minuti secondi ed è 66 solo nel primo nome quando il 60 del primo nome si carica dei 6 minuti secondi e diventa 66 e diventa 66 dato da un primo e 6 minuti secondi viceversa benito uguale 59 primo nome del secondo genito vale i 60 minuti primi i 60 minuti secondi del primo quando il secondo il secondo si pone dentro il 60 e avanza soltanto come 59 che è il valore 59 del suo primo nome benito il loro padre si è chiamato luigi uguale 54 amodeo uguale 47 e dunque vale il 101 quello della presenza 1 del lato 100 della realtà che in questo 101 è il 26esimo numero primo quello che si presenta in terza posizione come Anna nei nomi di tutti e due i figli di Luigi Amodeo che nel terzo nome sono Anna tutti e due e Anna è 26 il 426 del valore totale del secondo genito di Luigi Amodeo somma al 100 più 300 dell'unità e trinità dei quattro lati del piano della realtà il 26 che come numero primo 26esimo è il cabalistico valore 101 del nome del padre Luigi Amodeo Luigi Amodeo è nato nel ventesimo secolo il 7 7 del 7 indicante il vincolo sferico nelle tre dimensioni di anno, mese e giorno e ha avuto il suo primo genito avendo 1116 decine di giorni che sarebbero la distanza tra il secondo genito e il primo se portata al decimo da 1116 e il 6 finale si ribattasse verticalmente nel 9 sommandosi come 6 al 3 quindi questa perfetta distanza tra padre e primo genito e primo genito e secondo genito è tanto collegata all'avanzamento della velocità della luce che quando la potenza di 2 elevato a 12 quella che hanno i due nei loro 12 nomi quando questa potenza si moltiplica per 2,99792458 che sono i metri percorsi ogni 10 elevato a meno 8 secondi allora il prodotto di 4.096 per 2,99792458 è uguale al valore intero dato da 12.279,4990 che presenta il padre Luigi Amodeo che ha esattamente i 12.279 giorni quando nasce il secondo genito e sono quelli che distano dal suo natale 1907-07-07 quando nasce il 41-02-17 il suo secondo genito ha percorso in giorni tanti giorni quanti la luce ne ha percorsi tenendo conto che i figli sono due che hanno 12 nomi e che 12 elevato a 12 è 4096 4096 moltiplicato per tutto il 2,99792458 della luce porta esattamente al numero dei giorni interi mentre il valore decimali mentre il valore decimale 0,4990 è uguale riferito alla realtà 10.000 quanto 10.000 diviso per 20.000 e 40 che comprende nel duplo ossia nella realtà duplice dei due fratelli anche 40 il valore che ha il padre in cabala padre in cabala è uguale a 40 e quindi abbiamo che la realtà 10 divisa per quella 20.000 dei due fratelli comprensivi del 40 che è la realtà del padre da esattamente quel valore 0,4990 che è quello che mancava e tutto questo è un caso particolarissimo che mostra come se questo disegno doveva realizzare ai valori precisi delle realtà precise ebbene una di queste è proprio espressa da questa che io vi ho presentato come un caso particolarissimo in cui tutti i valori e tutti i soggetti in causa sono proprio quelli descritti da questo calcolo e quindi